Risarcimento in arrivo per gli agricoltori che hanno subito danni a seguito delle alluvioni del 14 e 15 ottobre scorsi. 13 in tutto i comuni interessati in Capitanata, oltre alla città capoluogo, ci sono i Monti Dauni con Ascoli, Biccari, Castelluccio dei Sauri e Castelluccio Valmaggiore, Celle, Deliceto, Faeto, Lucera, Monte Leone, Orsara, Roseto e Troia. Il ministro dell'agroalimentare Maurizio Martina ha firmato il decreto dello stato di calamità il 5 febbraio e il 16 di questo mese. L'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Di Gioia sarà a Castelluccio Valmaggiore, insieme ai sindaci e ai tecnici dell'ufficio provinciale agricoltura, per illustrarne i contenuti. Sarà anche occasione, ha annunciato, per illustrare le attività dei galle in rapporto alla sperimentazione della strategia nazionale per le aree interne. Gli aiuti destinati alle strutture aziendali distrutte dalle piogge saranno attinti dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Il governo si è mosso in tempi rapidi. Dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria sulla gazzetta ufficiale, scatta il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei proprietari delle aziende agricole, che hanno subito danni di entità non inferiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile. Impegno mantenuto, commenta la deputata PD Colomba Mongello. Soddisfatte le richieste avanzate e sostenute dai parlamentari foggiani e pugliesi del Partito Democratico. Come sempre, però, le calamità sollecitano la riflessione su quanti e quali danni si sarebbero potuti evitare, effettuando la prevenzione del discesso idrogeologico, come la corretta manutenzione dei canali. Fa notare su questo fronte il governo si sta muovendo, fa sapere attraverso l'unità di missione Italia Sicura. Regioni ed enti territoriali e la sollecitazione dell'On. Colomba Mongello sono chiamati a fare altrettanto, sfruttando sempre meglio le risorse statali e comunitarie.